bello a tutti ragazzi sono alex e suoi siamo qui tornati stavolta siamo nella beta di call duty black ops 4 blackout detto questo andiamo al gioco non posso ma si posso muovermi minimo non ci sta della roba in giro no no cavolo mi hanno fregato le idee no mannaggia ma va no volevo fregarlo che cosa ok 30 secondi io mi butterei nello schieramento perché non succederà niente a parte vedermi morire cerco di capire dove vanno loro perché prima stavo andando per conto mio dai 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 a terra c'era qualcosa intanto io raccolgo della roba dove sono le scale queste cose ah solo due armi posso portare massimo mazza se sono lento però eh andiamo a seguirlo rimaniamo in squadra perché noi siamo persone perbene l'importante è che non scanni il mio compagno di squadra c'è qualcosa non mi fa schifo kit medico sempre utile una recensione da scavalcare non c'è un veicolo in giro devo trovare però qualcosa non posso stare qui tranquillamente a non fare un bel niente non c'è un veicolo o qualcosa avevo visto un veicolo no posso entrarci? no ma giù qualcosa qui? non c'è sto soltanto andando a rincorrere i nostri compagni di squadra sono lì lontani delle 5.56 fanno sempre bene gli stiamo avvicinando quanto era grande quell'arma c'è qualcuno c'è qualcosa non c'è un bel niente vabbè si può scavalcare? allegro poi mazza c'è un'agilità disarmante fammi salire fammi salire non mi sale mi lo faccio apposta io eh sono ferito pesantemente sono ferito mi ha lasciato qui morire grazie ci stiamo menando di botte 10 secondi al bordello in tutti questi gameplay che ho fatto soltanto due kill blackout non fa per me arriva 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 arrivo oh come come sono entrato qui? lo soccorso va sempre bene ok adesso ho un'arma poche munizioni una granata va anche un'altra soltanto kit medici ci stanno oh ma questo sta scappando non puoi lasciarmi qua andiamo a mezzo o andiamo a piedi mazza è partito meglio questo di un pompa cos'è quel segno? mi sa che lì a terra l'approno se magari seguissimo questo dannatissimo aereo pazza se va piano eh voglio dire di seguire lì controlliamo se ci sta altro qua dentro io se prendo il veicolo finisce male questo corre però non è che va di certo piano c'ho paurissima c'ho paurissima intanto sto scoprendo la mappa perché non l'avevo neanche vista mi vuoi o te ne vai? arrivo arrivo come si sale? ci stanno sparando ma non so dove dubbio mi medico questo uomo si fida tanto di me non capisco niente il problema è che io non so dove andare sto andando dalla parte giusta boh ho capito adesso il cerchio stava letteralmente collassando e stavo andando fuori investito sono morto sono che cos'è successo? ma no sono troppo scarso perché sta roba fuma? ma quello è il cecchino obiettivo minimo non c'è cercare di sopravvivere potrò fare anche zero che ne ho fatto una nella partita precedente ma le pezzate mi sono tuffato un buttato malissimo e quella è la zona che mi interesserebbe quindi perdonatemi ma devo proprio andare lì ok non mi sono fatto niente vediamo lo zaino sempre un pompa in mezzo in questo mondo sento dei passi ma non capisco da dove sento dei passi non capisco dove sono però no respira profondo maid ok mi sa che non faccio il tempo ad arrivare no 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 ma cristiano he d'ha no 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 green